Sono davvero onorato e orgoglioso di essere stato scelto come capitano di questa squadra e ringrazio la società e l'allenatore che mi hanno dato questa grande responsabilità però vorrei sottolineare che questa squadra è composta da più capitani e tutti insieme dobbiamo essere bravi a trasmettere questa filosofia ai ragazzi giovani questa filosofia di squadra, di gruppo, cercare di far gruppo prima possibile perché sappiamo quanto è importante le difficoltà che andremo a incontrare durante il percorso di tutto l'anno quanto è importante essere squadra per venire fuori da situazioni magari complicate il ritiro procede bene, ci stiamo allenando, stiamo lavorando, stiamo faticando però fa parte della nostra preparazione e quindi volevo fare un saluto a tutti i tifosi di Lentella domani ci presteremo a disputare la seconda amichevole e speriamo di continuare sulla buona strada già intrapresa